Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, Don Camilo De Michele super inviato oramai del mondo, ma questo diventerà anche il nostro video griffato tutto juve.com 38 in attesa di vedere chissà magari con la gondoletta l'ultima Venezia. Io ho lanciato già tutto, Camilo ciao come stai? Ciao Claudio, bene, bene, molto bene. Io ho guardato il calendario e ho detto oh l'ultima Venezia, metti che. Guarda, sono elettrizzato ma tu lo sai da molto tempo per quello che stiamo vivendo dopo un'annata difficile proprio a livello di picchi, di entusiasmo in generale. Mi fanno dei cenni, mi fanno dei cenni, iscrivetevi al canale, non l'abbiamo ricordato, il like al video non l'abbiamo ricordato, i commenti non l'abbiamo ricordato, la campanella per essere raggiunti e raggiunte ovunque voi siate, non l'abbiamo ricordato ma lo diamo per scontato. Sei elettrizzato perché non eri più abituato, caro il mio Camilo, tu pensavi a un mercato sottotono e invece… Sì, onestamente qualcosa mi aspettavo, però tutto questo no, tutto questo assolutamente no, ma oggi abbiamo vissuto Claudio una giornata importante per tanti fattori, ti dico, uno il passaggio di consegna di Gregorio che viene a prendere il posto di uno dei grandi portieri della storia della Juve. Bello grosso, un bel armadio questo di Gregorio. Bello, bello grosso, bello grosso assolutamente e due, ti dico anche, due trattative che scrivono la storia della Juventus Women, perché è arrivata una star, è arrivata una star, Alicia Lehmann è arrivata da star e tu mi dirai, certo, chi ha 30 milioni di followers se non è una star chi lo è? Si hanno ruonato a femminile. È arrivata proprio con la consapevolezza di essere una star, quando è uscita dalla macchina, tu hai visto lei che era totalmente a suo agio di dire ragazzi sono io, cioè incredibile, veramente. No, ma scusa, scusa, no, muovo subito… Il J.M. sembrava Red Carpet. Aspetta, Red Carpet, muovo subito l'obiezione, come è uscita dalla macchina da sola? E Douglas? Eh, Douglas è in Copa America, Douglas in Copa America… Poteva accompagnarla, chiedere un permesso? No, no, si è raccomandato con me di tenerla sotto occhio, ovviamente. Ok, mi fai da bodyguard tu, ok. Ovviamente, e l'altra ti dico, Claudio, comunque anche per sottolineare, noi lo facciamo spesso, perché qua ne parliamo, il lavoro anche di Braghin, perché l'accessione di Ekegini, colpo durissimo, forse anche alle ambizioni della Juventus, però scrive la storia di questo movimento. Perché è una valutazione altissima, 80.000 euro per il cartellino più due giocatrici, quindi più Calligaris e Vansgard. Ricordiamo, per chi non fosse adepto, che, tanto per intenderci, le Juventus women più brave beccano 2.000 euro di stipendio. Sì, e ti dico, 80.000 euro siamo intorno a una valutazione che è più o meno sui 15-20 milioni di euro, paragonabile al calcio maschile. Quindi, i due giocatrici più quella valutazione per una ragazza che ha fatto neanche sei mesi alla Juve, è la storia di questo campionato, di questo movimento che sta provando a crescere con tutte le difficoltà. Quindi oggi non è solo la giornata di Di Gregorio, ma è anche la giornata, credo, della crescita del movimento femminile, che inevitabilmente da Alicia Lehmann troverà poi, credo, anche molto vantaggio. Perché ad oggi Alicia Lehmann è più grande delle Juventus women. Cioè, questa forse è la difficoltà che avrà Bragin, che avrà Mr. Canzi, anche di gestire comunque Alicia Lehmann nel gruppo in maniera normale, tra virgolette. Perché qua stiamo parlando comunque di qualcosa che non è normale, è una superstar. Senti, tra l'altro le ho viste belle pimpanti, belle molto carine, ste ragazze, senza troppo trucco, acqua e sapone, come piacciono a me. Adesso naturalmente le aspettiamo sul campo, però è una bella immagine che si sta creando per il movimento swimmer. E quella conta, perché dal punto di vista marketing social e quindi tutto quello che ne consegue, conta avere assolutamente anche una bella immagine e lo sappiamo, è inutile che ci giriamo intorno. E invece i ragazzi, Camillo, mi è arrivato Di Gregorio a fare le visite e tu dici, lui sarà contento, certo, però ci sono anche gli scontenti. Perché in settimana, non so se hai notato, ma è montata la panna intorno a dei giocatori che tra l'altro hanno anche appena rinunato il contratto. Che ne so, Locatelli e Marsiglia, che ne so, Gatti può andare via, che ne so, Rugani con tante offerte, lo stesso Tecco stretto andare via. Non sono molti, cioè questi Locatelli, Gatti e Rugani, non sono molto contenti di leggere queste cose? No, sicuramente no, ma bisognerà capire anche che dialoghi ci sono stati, da un punto di vista dell'allenatore di Giuntoli in generale. Perché se Pogba, io sai benissimo che sono una vedova di Pogba, Claudio ha detto che nessuno mi ha chiamato, dico figlio mio, con tutto il bene. Ma scusa, forse potevi chiamarci prima di fare quella stupidaggine, forse si sarebbe potuto evitare anche queste problematiche. Però al netto di questo, poi le chiamate da alcuni giocatori saranno arrivate. Io so bene che ce n'è uno che riceve le chiamate spesso, però non so se ha voglia di rispondere, che è Adriano Rabiot. Immagino qualche chiamata a Locatelli, immagino qualche chiamata a Gatti. Per il resto invece alcuni giocatori credo che possano essere realmente in uscita, anche con delle chiamate dove dire, ok, trovati una squadra, cerca un progetto diverso. Eh, ma se poi non ci... la domanda che mi sono posto io è, ma se tu poi non ci riesci... Allora, che siano tutti in vendita l'abbiamo capito, è inutile che stiamo lì a cinquantarla. Però il Locatelli di turno, che si vede accostato al Marsiglia, magari lui non ci vuole proprio andare, il Juventino vuole starla a Juve. Il giorno che poi finisce il mercato non li ha venduti, cosa gli dice il direttore sportivo? Ah, ma era l'allenatore che non ti voleva? E poi dopo ti lamenti con l'allenatore. Questo non lo so, però ti posso dire che a un certo punto credo che alcune di queste cose, a certi, possano solo fare bene. Nel senso, Claudio, qua è tutto bello apparecchiato. Tu hai anche vissuto la realtà legata alla Juventus. Quindi sai benissimo che è un ambiente di lavoro, comunque, dove ti permette di essere a tuo agio, di avere tante possibilità, no? In generale. E loro hanno tutto per fare solo una cosa e devono farla bene, giocare a pallone. Quindi a un certo punto magari avere anche un pochettino di pepe, in generale, può dire ok, forse questa è l'ultima chance. E il nome di Locatelli, per quanto io credo che possa essere difeso Locatelli in generale, e anche no, non averlo portato in nazionale, vedendo poi come è stata gestita i 108 difensori e non averne mai messo uno in campo, si poteva fare qualcosa di diverso, ti dico, da questo punto di vista, credo possa essere, no, una situazione dove può far bene. Perché bisogna toccare un po' l'orgoglio di questi giocatori. Perché se Locatelli dovesse continuare, Claudio, a comunque giocare non bene, e a quel punto bisogna etichettare come verrà fatto con Chiesa. Cioè, ad oggi io posso dirti, 5 luglio, che Chiesa è stato messo alla porta dalla Juve. Se Locatelli dovesse restare e fare un'annata come ha fatto quest'anno, a quel punto, il prossimo anno, saremo qua a parlare e dire, la Juve ha messo alla porta a Locatelli. Cioè, a un certo punto la pazienza deve finire, perché la Juve è troppo grande, troppo veloce come società per stare a aspettare questi giocatori in eterno. Ma quindi nell'ottica della pazienza, secondo te abbiamo perso la pazienza e quindi anche Rabiot? Per me Rabiot è un discorso diverso. Io credo che con Rabiot non si sia persa la pazienza. Io credo che Rabiot sia uno di quei giocatori che si è guadagnato nell'ambiente Juve la possibilità di prendersi questo tempo qua. Perché l'allenatore lo vuole, credo che Giuntoli comunque riconosca l'importanza di Rabiot e l'offerta ai mini. E perché ti dico questa cosa, Claudio? Onestamente, ormai non è più un giocatore della Juve, perché da cinque giorni non è un giocatore della Juve e allora se la Juventus perde la pazienza, poteva fare tranquillamente un comunicato, poteva fare tranquillamente un post social, poteva dire, ok Rabiot, sei un giocatore di un'altra squadra, ciao, grazie, arrivederci. Invece l'unica cosa che non hanno fatto è fargli in bocca al lupo, però non è più un giocatore della Juve. Ma ad oggi, credo, non essendo stato salutato a dire Rabiot, ti dico no, non si è persa la pazienza, perché quei cambi che saranno fatti a centrocampo, tre giocatori nuovi, io credo che possano richiedere un giocatore dell'esperienza di Rabiot. Quindi mettere Rabiot più tutti gli altri. Però con mamma Veronique la partita è aperta. In tutto ciò non voglio allungere nessuno. Quello sempre. Però lì c'hai pazienza, giocatore d'esperienza. In difesa vuoi il nuovo giovane che avanza. Perso Calafiori, che avevamo detto ragazzi a 50 non ci arriveremo mai, l'Arsenal arriva a 53, auguri, ciao, buona Premier League. Però perché io mi devo vedere Kivir con tutto il rispetto sul campetto? Cioè, ma se io ho Gatti, di cui parlavamo prima, è lo stesso Rugani che ha vinto 12 titoli con la Juve e si è fatto un decennale di esperienze. Perché devo vedere Kivir? Dai, abbi pazienza anche te, Camillo. Guarda, non voglio contraddirti perché poi rischio il posto. Ma tu mi devi contraddire, assolutamente. Però io credo che Kivir sia un nome facilmente accostabile alla Juve in generale perché è una scoperta di Tiago Motta. Sì, ma lo spezia. Sono i nomi che vengono accostati. L'Arsenal lo vendono e prendono Calafiori. Esatto, l'unica cosa che ti posso dire. A parte che Calafiori credo che sia una ferita aperta nel cuore di Tiago Motta e di Giuntoli perché i tre obiettivi principali della Juventus erano di Gregorio, Calafiori e Commeiners. Gli altri sono delle opportunità, ma gli obiettivi per cui si sta lavorando da gennaio sono loro tre. Credo che Kivir abbia solo una qualità diversa tra Gatti e Rugani. Che è il piede, Mancino. La Juve deve fare. Vabbè, allora tenevo a Alessandro se è solo questione di Mancino. Ovviamente c'hai ragione su questa cosa qua. Poi io mi dissocio perché qua è un attimo i commenti poi su Alessandro. No! Te li vedi tu che hai un'esperienza. Ma scusa, se tu mi dici che non è importante se uno è bravo o esperto o giovane ma perché è Mancino, vabbè, allora c'è la cosa al Baccino. No, no, in questa cosa qua però ti dico l'idea di Kivir. Tra l'altro Kivir non è stato mai utilizzato a Tiago Motta come difensore centrale. Questa è una cosa che va detta. Tiago Motta utilizzava Kivir come mediano davanti alla difesa e in quello spezia Tiago Motta giocava a tre. Quindi figurati, c'è tutte delle situazioni molto delicate. Però ti dico, io credo che la Juventus farà un difensore Mancino. Non so Kivir. Ecco, se dovesse arrivare Kivir io mi immagino un'operazione in prestito perché l'hai detto quasi tutto tu. Ovvero tu prendi i calafiori mi rubi la merenda da sotto il naso come ti dissi già una volta. Bene, ok. Io però per Kivir ti dico prestito con diritto di riscatto alle mie condizioni. Perché ogni tanto farsi furbi non è neanche reato, no? No, scusa, stavo scrivendo Larsen ruba la merenda perché sennò poi mi dimentico. Sai che a me la merenda piace sempre e me la devo tenere bene in mente. Senti, detto delle donne, detto dei ragazzi, detto delle visite mediche detto che dobbiamo comprarci assolutamente la maglia senza sponsor perché oltre ad essere vintage è una maglia che varrà nel futuro detto del calendario su cui abbiamo argomentato polemizzato adesso ci rimane solo che partire con la stagione che comincia a darci un po' le date, dai. Ma la stagione inizia il 10 di luglio inizia il 10 di luglio quindi... La morte è arrivata o no? Ho lasciato la moglie da sola cerca al caso. Guarda, ufficialmente è arrivata la moglie ufficialmente. Poi non lo so purtroppo non ho questo rapporto così confidenziale con mister Motta però quanto meno la Juventus ci ha comunicato che dovrebbe arrivare tra lunedì e martedì quindi o lunedì o martedì della prossima settimana iniziare a fare comunque un po' un lavoro e capire quella che sarà la propria casa per i prossimi tre anni e poi dal 10 ci sarà il ritiro della Juventus oggi abbiamo comunque già visto qualche giocatore che ha interrotto le vacanze comunque vacanze lunghe quest'anno perché hanno finito a maggio e a quel punto poi iniziano un po' a lavorare a fare un po' di terapie a mettersi un po' in ritmo un po' in moto e poi ci saranno le date legate alla Germania la Germania dal 20 al 26 con l'amichevole anche a Norimberg e poi c'era tutto l'avvicinamento legato poi al campionato come dicevi tu la prima in casa col Como però in generale credo che ci sono dei fattori positivi e questo ti dico uno è che diventerà un giocatore della Juventus e potrà fare il ritiro con Tiago Motta questo è un fattore molto positivo non me ne voglio a Tienry Henry giocatore amato però dobbiamo pensare al nostro articello e l'altro potrebbe essere veramente con Mainers perché se riesci a prendere il prima possibile con Mainers e Turam comunque in attesa di Douglas Lewis hai l'opportunità di lavorare a centrocampo e la parola chiave Claudio di questo ritiro deve essere lavorare sulla fiducia l'abbiamo visto anche a questi europei la fiducia della Svizzera ha trovato un'Italia con zero fiducia e zero personalità e non a caso ti dico non a caso due giocatori che stanno facendo benissimo della Svizzera sono Ebischer e Ndoje che vengono dal Bologna perché il Bologna nel bel gioco nei bei risultati ha lavorato sulla fiducia delle giocate del voler la palla e di sviluppare e questo si trova solo nel ritiro quindi sarà un ritiro fondamentale e difficoltoso e finalmente non lo facciamo in giro per il mondo e quindi ha più un senso non più commerciale ovviamente però pratico e da campo senti Camillo sai che ci sono delle regolamentazioni diverse o meglio delle novità regolamentari per l'anno prossimo sai qual è quella più divertente? vai 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 non lo sai queste cose qua sono mancante c'è la cooling off period cioè se litigano e te lo dico io se litigano in campo l'arbitro interrompe il gioco e li fa raffreddare fino a che fanno facce ti piace? ah beh bello bello bella cosa inutile bella cosa inutile posso tranquillamente dirlo bella cosa inutile con tutto il bene capisco che degli spettacoli vanno assolutamente combattuti io sai che parlo poco di arbitri di robe varie io mi auguro visto che è stato confermato per le prossime due stagioni che venga fatto un lavoro di studio di alcuni giocatori perché a me del volemosi bene è successo un po' ci siamo un po' arrabbiati ma adesso ci vogliamo bene non me ne frega niente c'è anche un po' uno spintone e se rimane nella questione non brutta ovviamente lo capisco e credo tutti abbiamo visto e abbiamo anche litigato su un campo da calcio ma iniziare a togliere le perdite di tempo vedere gente che va a parlare hai la cattapalle per dire no butta via il pallone gente che si rotola e poi si rialza perché tanto non è successo niente ecco iniziamo a lavorare su queste cose di stupidaggini ne creiamo una nuova ogni anno e credo che questa possa essere veramente una bella grossa quindi lavoriamo sul period e meno sul cooling off period mettiamola così tu lavora vedi di lavorare che noi abbiamo un dieci giorni pazzeschi da fare qua tutte le sere con i video lo sai ragazzi noi abbiamo l'inviato personale anche di gruppo ma anche personale ormai Camillo è uno di noi Camillo grazie ti vedo bello riposato quindi sei pronto a lavorare ciao caro certo grazie Claudio